Diamoci da fare! E anche l'inchiostrazione è finita! Ok, mettiamo un po' di retini Questo dovrebbe andare bene Credo mi servirà anche questo Aspetta, aspetta Eccolo Ora devo scegliere un bello scenario Perché non trovo mai quello che cerco Eccolo qua Ci ho messo un mese E finalmente ho finito il mio autoconclusivo Non vedo l'ora di farlo leggere a qualcuno Beh, forse potrei postarlo anche su internet Bene, andiamo a schienerizzare questo lavoro Ciao a tutti Vorrei sapere Che cosa ne pensate Del mio episodio autoconclusivo Che vorrei pubblicare su Mangastarza Fatemi sapere Grazie 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 Forse intanto potrei inviarlo anche alla rivista Mangastarza Ciao Vorrei proporre Il mio manga Per partecipare a Mangastarza Ecco quel mio autoconclusivo Fatemi sapere che ne pensate A presto Ciao Mi dispiace ma questo autoconclusivo Ce l'ha inviato un ragazzo proprio ieri sera Quindi si vuole pubblicare su Mangastarza Fai un manga tuo Rubare i lavori degli altri non è corretto Cosa? Ma io non ho rubato il lavoro di nessuno Aspetta Quando l'ho pubblicato prima Qualcuno deve averlo appreso Cazzo Un mese buttato via Adesso che mi hanno rubato il lavoro dovrei rifarlo da capo Anche a costa di stacciare tutto il web Io ti troverò Aare 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 Grazie a tutti.